Anche quest'anno Bolzano ha la sua fiera del fumetto, vediamo servizio. Terza edizione, venerdì 22 e sabato 23 maggio 2009 per il festival del fumetto Art My Sound. Manifestazione patrocinata dal comune, sostenuta dall'ufficio Famiglia Donna e Gioventù e dal servizio Giovani della provincia autonoma di Bolzano e organizzata dall'associazione La Strada Der Wegge in collaborazione con il festival Upload. L'eccezionalità di questa rassegna, come spiegano gli ideatori dell'iniziativa, è il connubio musica-fumetti per dare vita ad una fusione originale e virtuosa fra queste due forme d'arte. In piazza della mostra a Bolzano ci saranno stand dedicati a editori, autori e importanti ospiti del panorama fumettistico nazionale e internazionale. Durante le due serate si alterneranno sul palco gruppi musicali locali, scelti dopo una serata di preselezioni che si terrà venerdì 17 aprile presso il Centro Giovani Cortocircuito di Via Dalmazia a Bolzano. Informazioni sul sito all'indirizzo internet www.artmysound.com www.artmysound.com www.artmysound.com